Salve a tutti amici e benvenuti con questo video, io sono Salopimpos e oggi torniamo su Minecraft per Android Allora, nell'ultimo video sono riuscito finalmente a ritornarmene a casa dalla magione E se vi ricordate abbiamo preso... Quel polletto che fa uscito? Polletto? Ma perché non te ne ritorni lì? Se vi ricordate abbiamo preso la statua del polletto e qui abbiamo i materiali Dunque, appunto a proposito di polletti, oggi ci andremo a ricostruire la statua che abbiamo preso Proprio qui nel mio mondo E finalmente vi lascio anche il link del download della mappa in descrizione così ve la potete scaricare Ovviamente, visto che qui avevo fatto la farm di polli, io volevo costruirmi il polletto qui Ma dove però? Qui effettivamente in questa spiaggetta ci starebbe fighissimamente Direi Direi che questa spiaggetta è proprio fatta apposta per quest'occasione Allora, quindi cominciamo subito a costruire Intanto dobbiamo mangiare tizio Mangia, mangia che ho un po' di fame prima di costruire Io qui mi sono fatto un piccolo schemino di come era il mio polletto lì Quindi adesso cercheremo un po' di ricostruirlo Allora, io me lo sono studiato, spero di ricordarmelo Allora, iniziamo con le zampette Che dunque erano arancioni Vediamo di centrare la cosa un po' il più possibile Mettiamo magari qui Vediamo qua Vediamo un po' qui Qui, va bene qui Va bene qui Allora, uno qui Perfetto Uno qui Distanza di un blocco Uno qui e uno qui Perfetto E poi uno qui e uno qui E queste sono le fighissime zampette del nostro polletto Bellissimo Non vedo che sia finito Ah, no, no, no Aspetta, no Perché anche un altro Sono due qui Sono due Uno qui e uno qui Ora sì Perfetto Ora cominciamo a costruire con la lana bianca Ovviamente Allora Cominciamo da qui Un blocchetto di lana bianca qui Ragazzi, seguitemi Così vi costruite anche il pollo voi Anche se non siete andati alla magione Ma recuperare la lana non è difficile Ok, quindi Tre blocchi di lana qui davanti E tre blocchi di lana qui dietro Ok Poi, poi, poi Sempre qui dietro Dobbiamo fare Le ali Allora, intanto Chi è? Chi è che rompe? Chi è che fa tutto sto casino? Che cos'è tutto sto casino? Non ho capito cos'era tutto sto casino Sarà passato, non lo so Un aquilone Vabbè Continuiamo, va Continuiamo Sperando che sto casino si tolga Allora, cominciamo a salire con la nostra terra Eeeh Allora Prendiamo di nuovo la lana E facciamo una striscia qui Così Ed una striscia qui Ed è ritornato il casino Ma perché cacchio è sto casino qua però? Intanto si è fatta notte Quindi andiamo a dormire No, ma io sto casino però Non lo voglio sentire Se continuo a disattiviamo l'audio Ragazzi Che costruire il pollo con sto casino Mi Non mi piace proprio Sembra essersene andato No, vabbè Non l'ho capita sta cosa Vabbè Continuiamo, va Sperando che se ne sia andato Definitivamente Risaliamo La nostra bellissima montagnetta Qui Perfetto Spostiamoci di qua Ok Da qua Andiamo a rifare la stessa cosa Anche dall'altro lato Ora ci avviciniamo Da verso la farm Quindi sentiremo ancora più casino Facciamo qui E facciamo così Perfetto E qui al centro Ovviamente lo facciamo anche Così Perfetto Adesso che cosa facciamo? Qui ci mettiamo un altro blocco Un altro blocco Anche qui Ed un altro blocco Anche qui Va bene Quindi saliamo Sopra il pollo No, sopra il pollo Tizio Tizio sopra Il pollo sopra Andiamo 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 Saliamo sul nostro polletto E mettiamo ora qui Altra lana bianca Per un totale Di 3 Deve essere 3 in altezza Quindi un quadrato di 3 per 3 Adesso vi faccio capire meglio Dunque dobbiamo ottenere Questa situazione qui Un quadrato di 3 per 3 E la stessa cosa faremo Anche dall'altro lato Ovviamente Quindi 3 3 E 3 La la Il primo stack di lana L'abbiamo finito Ma non era 64 Quindi non era proprio Un stack Allora Questo qui sarà il sederino Del nostro pollo Quindi andiamolo a chiudere Per adesso Perché poi dietro Ci sarà anche il sederino Però chiudiamo così Così Perfetto Entriamo qui E da questo punto Cominciamo a salire Di 6 spazi Quindi Uno già c'è Quindi 2 E mettiamolo anche qui 3 E qui pure 4 E qui pure 5 E qui pure E 6 E qui pure Va bene Ah e mi sono dimenticato Che dovevamo farlo anche qui Quindi ributtiamoci Dobbiamo farlo anche qui Quindi riempiamo Tutta questa Fra virgolette Stanza Di lana Ok riempiamo tutto 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 Ah e dobbiamo riempire Anche il centrale Ragazzi Centrale pure Quindi ok Riempiamo quel centrale E anche qui Così Così Riempiamo tutto Riempiamo tutto Riempiamo tutto Questo sarà il collo Del nostro polletto Quindi Quindi polletto Polletto Valle espluga Ok Mettiamo qui Ok perfetto Questo è il collo Del nostro pollo Quindi buttiamoci Vediamo un po' Come la situazione è qui Va bene Quindi questa zona centrale La riempiamo anche Vediamo se ci arriviamo così Perfetto Così Riempiamo qui Riempiamo qui Così 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 Va bene E questo dunque È il sederino Del nostro polletto Ragazzi Vediamo un po' Circondando tutto Sì Direi che ci siamo Perfetto Perfetto Adesso non rimane altro Da fare Praticamente La zona centrale Quindi il becco E tutto il resto Allora il becco Lo dobbiamo fare Dunque Da questo lato Però lasciando Due blocchi Mi sembra Sì Quindi risaliamo Aspetta perché qui Dobbiamo concentrarci Concentriamoci Dunque lasciando Due blocchi Al terzo Ci andiamo a fare Un'altra Un altro suolo Di lana bianca Così Così Perfetto Quindi Andiamo a rifarci Questa la possiamo togliere Togliamo tutta questa terra Così ci facciamo Un po' di strada Visto che adesso Siamo un po' più avanzati Come Come livello Togliamo tutta la terra Togliamo tutta la terra Oggi costruzione Abbastanza semplice Ma molto fighissima Ragazzi Questo pollo È veramente bellissimo Il gatto Non l'ho preso più Purtroppo Perché mi sono scordato Ragazzi Quindi se Se lo volete costruito Fatemi sapere nei commenti Perché comunque Devo prendermi la lana Devo prendermi tutta la lana Per i fatti miei Perché lì Non l'ho presa Ok Adesso ci alziamo E andiamo a fare La testa Andiamo a farci la testa Quindi ci alziamo Da qui Due Tre Mettiamo il becco Qui Così Poi Uno strato Di lana Qui Va bene Uno centrale E tre Di lato Quindi la lana È finita Quindi teoricamente Abbiamo costruito Perfettamente Il nostro pollo Mettiamo gli ultimi Due blocchetti Di lana grigia Qui Per fare gli occhi Ma guardate Che figo Ve lo faccio vedere Tutto alla fine Intanto togliamo la terra Togliamo la terra Togliamo la terra Perfetto E guardiamo Il nostro fantastico pollo Ragazzi Guardate Guardate che è venuto Spettacolare Il mio polletto Ma è una cosa fantastica Veramente Quando l'ho visto Per la prima volta Di alla magione Me ne sono veramente Innamorato Guardate qui Ma è una cosa bellissima Chi l'ha costruito È veramente un genio Perché è semplice Nella struttura Ma è veramente Veramente bellissimo Quindi Non potevamo trovare Locazione migliore Accanto alla farm di poll Anche se non funziona più Perché hanno tolto La farm di poll Io ancora non lo riesco a spiegare Mettiamo in visuale Il nostro bellissimo polletto Ragazzi Guarda Ma che spettacolo Però Che spettacolo Quindi fatemi sapere Nei commenti Se vi è piaciuta Questa costruzione Se volete Che vi porti Anche la costruzione Del gatto Che comunque Ho lasciato alla maggiore Ragazzi Ditemi di no Per favore Altrimenti Dovrò recuperarmi Tutta la mano Alzo se vi è piaciuto Se lasciate un bel like Vi ricordo di seguirmi Se mi piace facebook Twitter Se mi piace Tutti i social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E vi ricordo Potete trovare il link Per scaricare la mappa Giù in descrizione Per oggi è tutto Al prossimo video Oggi siamo finalmente Su Six Guns Me l'avete consigliato Tantissime volte Anche questo E finalmente ci arriviamo Ho sentito una donna Gritare E andiamoci Andiamo Andiamo A bordo del cavallo Parapapapa Grazie a tutti